Anche oggi abbiamo fatto, credo, partenza molto buona, trovato due gol e dopodiché un secondo di blackout ci siamo ritrovati 2-1 senza che gli altri hanno fatto nulla e poi siamo ripartiti, occasione del 3-1, parata loro e un rigore, un'altra disattenzione nostra e fortunatamente oggi siamo riusciti poi a ribartarla ancora di più. Delle volte è una sensazione che facciamo tutto noi, purtroppo questa è la verità e dobbiamo sicuramente migliorare per questo perché anche oggi è una partita che gli altri hanno fatto meno e hanno giocato sui nostri errori. Sicuramente oggi non siamo ancora quella squadra nella totalità dei 90 minuti per tante situazioni, per tanti giocatori che sono stati infortunati, che hanno saltato partite, quindi tanto cambiamento e questo non aiuta a trovare poi una quadra. Però la squadra anche nei momenti di difficoltà ha sempre lottato, ha sempre messo il cuore e la fame, quindi delle volte non c'è andata bene gli episodi, oggi c'è andato bene l'episodio a favore per vincere la partita e il calcio purtroppo è fatto anche di questo. Questo è un punto di partenza per lavorare e per eliminare gli episodi? Deve esserlo, deve esserlo che deve dare più forza ai ragazzi, più concentrazione, più attenzione e sapere che le partite si vincono o si perdono sui dettagli, ancora di più in questo campionato, e far sì di non concedere più troppo agli altri e invece trasformare quello che ci capita a noi. De Iola stringe i denti da tanto e ha questo problema, oggi ha avuto un riacutizzarsi importante alla caviglia, non ce la faceva più, ha un problema secondo me importante, speriamo in questi giorni capiamo quello che gli è successo. Finalmente dopo tanto sacrificio, tanti anche errori, batoste, insomma torniamo leggermente a sorridere dopo una vittoria sofferta, potevamo vincerla più facilmente, però insomma in questo momento l'importante era vincere, abbiamo vinto con la mia doppietta, quindi sono ancora un po' più felice. Dopo tanto tempo quasi pensavo di non saper più colpire di testa, invece oggi grazie a Naitan, grazie a Zappa, insomma mi hanno messo due belle palle e dovevo fare gol, insomma è andata bene dai. Intanto ci godiamo almeno per stasera questa vittoria perché era tanto tempo che la desideravamo e ce la siamo presa sempre con i nostri difetti, però siamo lì a combattere, a volerci migliorare, insomma sono sicuro che potremo fare solo che meglio. Sì, è una vittoria che volevamo con le unghie e con i denti, un grande atteggiamento, abbiamo sofferto ma finalmente abbiamo gioito, ci voleva. Dobbiamo partire da questo atteggiamento che secondo me ha fatto la differenza, la lunga e continuare a lavorare con questa grande voglia di fare bene. La cosa importante è sempre la squadra, il gruppo e sono contento che siamo riusciti a fare tre punti. A Palermo si va con quale spirito? Con lo stesso di oggi, grandissimo atteggiamento e voglia di fare bene. Grazie.